undici otelkoff aveva lasciato maria alexandra in apparenza completamente consolato ella lo aveva decisamente infiammato da burrodujev non ci andò sostenendo il bisogno di stare da solo un impeto straordinario di fantasticherie eroiche e romantiche non gli dava pace e gli sognava la spiegazione solenne con zina poi le nobili lacrime del suo cuore generoso il suo pallore e la sua disperazione al brillante ballo pietroburghese la spagna il gadalchivir l'amore e il principe morente che nell'ora suprema univa le loro mani poi la sua bella moglie devota e continuamente stupita del suo eroismo e dei suoi sentimenti elevati passano alla chitichella l'attenzione di qualche contessa dell'alta società di cui sarebbe entrato senz'altro a far parte grazie alle nozze con zina vedova del principe k il posto di vice governatore i soldi insomma tutto quello che maria alexandrovna gli aveva così eloquentemente descritto sfilava per l'ennesima volta nella sua fantasia soddisfatta accarezzandola vezzeggiandola e quel che più conta lusingando il suo amor proprio ma ecco che non so davvero come spiegarlo quando già cominciava a stancarsi di tutti quegli entusiasmi all'improvviso fu colto da un pensiero nauseante che in ogni caso tutto questo sarebbe accaduto nel futuro e che lui intanto era rimasto lo stesso con un palmo di naso quando fu colto da questo pensiero notò che i suoi vagabondazzi lo avevano condotto molto lontano a una fortificazione isolata e a lui sconosciuta si stava facendo buio per le strade costeggiate da piccole casupole che sembravano fare tutt'uno con il terreno abbagliavano accanitamente i cani randaggi che nelle città di provincia circolano in quantità spaventose proprio in quei quartieri dove non c'è niente da custodire e niente da rubare iniziava a cadere la neve di tanto in tanto si imbatteva in qualche mercante di tardatario o in qualche donnetta in tulupe e stivali tutto questo per qualche ignoto motivo cominciava ad irritare Paveri Aleksandrovic un segno assai brutto perché quando le cose ci vanno bene tutto al contrario assume un aspetto gaio e attraente Paveri Aleksandrovic involontariamente ripensò che fino a quel momento era sempre stato lui a menare la danza a Mordashov e che gli piaceva molto quando in tutte le occasioni facevano qualche accenno al fatto che fosse fidanzato e si congratulavano con lui per questo motivo andava addirittura fiero del fatto di essere fidanzato e tutto a un tratto adesso sarebbe stato chiaro a tutti che era stato scaricato lo avrebbero deriso perché certo non poteva farli tutti ricredere e mettersi a raccontare dei balli pietroburghesi o delle colonne o del galalchivir la furia di ragionamenti, di angosce e di lamenti alla fine afferrò il pensiero che già da un po' silenziosamente gli stringeva il cuore ma è vero tutto questo? ma succederà tutto così come Maria Aleksandrovna mi ha descritto? e a quel proposito si rammentò che Maria Aleksandrovna era una signora straordinariamente furba che per quanto degna del rispetto generale era lo stesso pettegola e mentiva dalla mattina alla sera che adesso nell'allontanarlo aveva verosimilmente i suoi scopi personali e che infine di parlare sono capaci tutti pensava anche a Zina si tornò in mente l'ultimo sguardo di lei tutt'altro che carico di muta passione amorosa e nello stesso tempo pensò anche che in ogni caso si era già preso dello stupido da lei a quel ricordo Pavel Aleksandrovich si fermò improvvisamente e per la vergogna arrossì fino alle lacrime come a farlo apposta l'attimo dopo gli capitò uno spiacevole incidente egli inciampò e volò dal marciapiede di legno dentro un cumulo di neve mentre si dibatteva nella neve il branco di cani che già da prima lo perseguitava con i suoi latrati gli fu addosso da tutte le parti uno di essi, il più piccolo e canito si appese addirittura con i denti a una falda della sua pellizza liberatosi dai cani imprecando ad alta voce e maledicendo addirittura la sua sorte Pavel Aleksandrovich con la pellizza strappata e l'animo oppressa da un'angoscia insopportabile raggiunse finalmente l'angolo della strada e solo a quel punto si accorse di essersi perso è noto come un uomo che si sperda in una zona sconosciuta di una città soprattutto di notte non possa in alcun modo proseguire dritto per la via ogni istante una qualche ignota forza lo spingerà a infilare tutte le strade e tutti i vicoli che incontra seguendo questa regola Pavel Aleksandrovich si perse definitivamente ma che il diavolo si porti tutte queste grandi idee diceva tra sé sputando per la rabbia e che il diavolo in persona vi porti con tutti i vostri nobili sentimenti e i vostri guadalchivir non posso dire che in quel momento Mozilakov fosse affascinante finalmente stanco, tormentato dopo aver errato per due ore arrivò all'ingresso della casa di Maria Aleksandrovna si stupì nel vedere tutte quelle carrozze possibile che abbiano ospiti possibile che ci sia una serata a inviti pensò e a che scopo? informatoci da un servo in cui si era imbattuto e saputo che Maria Aleksandrovna era stata in campagna e aveva portato con sé Afanasi Mattiai in cravatta bianca e che il principe ci era svegliato ma non era ancora sceso a incontrare gli ospiti Pavel Aleksandrovich senza dire una parola salì dallo zio in quell'istante era esattamente in quello stato d'animo in cui una persona di carattere debole è capace di decidersi alla più spaventosa e malvagia porcheria per lo spirito di vendetta senza pensare che poi forse se ne pentirà per tutta la vita entrando al piano superiore egli vide il principe seduto in poltrona davanti alla sua toiletta da viaggio con la testa completamente nuda ma già adorno di fedine e pizzetto la sua parrucca era nelle mani del vecchio e grigio Ivan Paciomice il suo cameriere Beniamino Paciomice la pettinava con aria rispettosa e meditabonda per quanto riguarda il principe e gli offriva uno spettacolo assai penoso ancora inebetito com'era dai recenti eccessi sedeva tutto abbandonato con l'aria inebetita inerte e avvizzito e guardava Motlyakov come se non lo riconoscesse come state zio? chiese Motlyakov come? sei tu? chiese alla fine lo zio io caro ho dormito un pochino oh dio mio! esclamò riemandosi ma sono senza parrucca non vi preoccupate zio io vi aiuterò se ne avete bisogno e così adesso hai scoperto il mio segreto eppure io l'avevo detto che bisognava chiudere le porte beh amico mio tu devi darmi subito la tua parola d'onore che non approfitterai del mio segreto e non dirai a nessuno che i miei capelli sono posticci andiamo zio possibile che mi crediate capace di una simile bassezza gridò Motlyakov volendo ringraziarsi il vecchio per i futuri sviluppi ma certamente ma certamente e poiché vedo che sei una persona nobile una persona come si deve voglio stupirti e ti rivelerò tutti i miei segreti mi piacciono caro i miei baffi? sono meravigliosi zio stupendi ma come avete potuto conservarli così a lungo? devo disilluderti amico mio sono posticci disse il principe guardando trionfante Pavel Aleksandrovich possibile? non riesco a credersi e le fedine ammettete lo zio ve le tingete? tingerle? non solo me le tingo ma sono anch'esse completamente finte finte? no zio permettetemi di non credersi vi prendete gioco di me? parole d'onore mon ami gridò il principe trionfante e figurati che tutti proprio tutti si cascano proprio come te perfino Stepanida Mattievna non ci crede anche se qualche volta è proprio lei a sistemarmene ma sono certo amico mio che conserverà il mio segreto dammi la tua parola parola d'onore zio non parlerò ma ve lo ripeto possibile che mi riteniate capace di una simile bassezza ah amico mio come sono caduto oggi senza di te Fiofil mi ha di nuovo rovesciato la carrozza rovesciato di nuovo? ma quando? eravamo già quasi arrivati al monastero lo so zio è stato stamattina no no due ore fa non di più io andavo al monastero e lui ha preso e mi ha rovesciato mi sono così spaventato perfino adesso sono tutto sotto sopra ma zio ci avete riposato disse Mozelkopf sconcertato ma certamente ho riposato e poi sono andato del resto del resto può darsi che io ma com'è strano vi assicuro principe che l'avete visto in sogno voi avete riposato in perfetta tranquillità fino a questo momento possibile e il principe si mise a riflettere ma certamente in effetti forse l'ho visto in sogno prima ho sognato uno spaventosissimo toro con le corna e poi un certo procuratore e anche lui aveva le corna probabilmente era Nikolai Vasilievich Antipov zio ma certo probabilmente era lui e poi ho visto Napoleone Bobo Bonaparte sai amico mio tutti mi dicono che assomiglio a Napoleone Bobo Bonaparte e che di profilo ricordo in modo impressionante qualche antico papa cosa ti pare mio caro assomiglio a un papa penso che assomigliate di più a Napoleone zio ma certamente è naturale e del resto lo penso anch'io mio caro che ho sognato anche lui quando era già sull'isola e sai erano quace allegro un buon tempone e mi ha divertito moltissimo parlate di Napoleone zio percepava l'alexandrovich guardandolo curiosamente uno strano pensiero cominciava a balenargli nella mente un pensiero di cui ancora non riusciva a rendersi conto ma certamente di Napoleone abbiamo parlato soprattutto di filosofia e sai amico mio mi dispiace perfino che siano stati così severi con lui quelli inglesi certamente se non l'avessero imprigionato avrebbe cominciato di nuovo a scagliarsi addosso alla gente era talmente indiavolato ma mi fa pena lo stesso io non l'avrei trattato così io l'avrei esiliato su un'isola deserta perché deserta chiese Modriakov distrattamente beh magari era anche abitata ma soltanto da persone giudiziose e poi gli avrei organizzato delle distrazioni teatro musica balletti e tutto a spese dello stato e gli avrei concesso di passeggiare naturalmente sotto sorveglianza altrimenti avrebbe subito tagliato la corda c'erano certi pasticcini che gli piacevano tanto e io ogni giorno glieli avrei fatti preparare io l'avrei tenuto in modo paterno e così alla fine si sarebbe pentito Modriakov ascoltava distrettamente le chiacchiere del vecchio ancora mezzo addormentato e si mordeva le unghie per l'impazienza voleva portare il discorso sul matrimonio non sapeva lui stesso perché una rabbia sconfinata gli ribolliva nel petto tutto un tratto il vecchietto gridò di meraviglia ah mon ami ma io mi sono addirittura dimenticato di dirtelo figurati che oggi ho fatto una proposta di matrimonio una proposta di matrimonio zio gridò Modriakov come ridestandosi ma certamente una proposta di matrimonio ma ciò mi arrivi allora sono charmant person ma devo confessarti mio caro che ho agito in modo sconsiderato solo adesso me ne rendo conto ah mio dio ma permettetemi zio quando è che l'avete fatta questa proposta ti confesso amico mio che non so nemmeno con certezza quando oh non l'avrò sognata ah com'è strano tuttavia tutto questo Modriakov fremeva per l'entusiasmo una nuova idea gli era ballenata in testa ma quando a chi avete fatto la proposta zio ripeti con impazienza alla figlia della padrona di casa mon ami c'è bel person del resto mi sono anche dimenticato come si chiama solo vedi amico mio io non posso in nessun modo sposarmi che cosa devo fare adesso ma naturalmente vi rovinereste con un matrimonio permettetemi però di farvi ancora una domanda zio siete assolutamente certo di aver fatto davvero la proposta ma certamente ne sono sicuro e se vi foste sognato tutto proprio come il fatto di esservi rovesciato un'altra volta con la carrozza ah dio mio e in effetti può darsi che mi sia sognato anche questo così adesso non so nemmeno come comportarmi là come potrei amico mio informarmi con certezza con qualche domanda indiretta e sapere se ho fatto o no questa proposta può immaginarti adesso la mia situazione sapete una cosa principe io penso che non ti sia proprio niente da sapere come? io penso che vi siate senz'altro sognato tutto lo penso anch'io mio caro tanto più che spesso mi capitano di questi sogni vedete allora zio pensate che avete bevuto un pochino a colazione poi a pranzo e infine ma certamente amico mio deve essere proprio stato per quello tanto più zio che per quanto infiammato non credo proprio che avreste potuto fare una simile insensata proposta da sveglio per quanto vi conosco zio siete una persona assolutamente assennata ma certamente ma certamente pensate soltanto a una cosa se lo sapessero i vostri parenti che anche così sono già abbastanza mal disposti nei vostri riguardi che cosa succederebbe? ah zio mio gridò il principe spaventato che cosa succederebbe? ma andiamo si metterebbero tutti in coro a gridare che l'avete fatto in un accesso di follia che siete pazzo che bisogna mettervi sotto tutela che vi hanno ingannato e certamente vi ricovererebbero da qualche parte sotto stretta sorveglianza Odryakov sapeva come spaventare il principe ah dio mio gridò il principe tremando come una foglia davvero mi ricovererebbero? e poi ragionate zio avreste mai potuto fare una proposta così insensata da sveglio traete voi stesso le vostre conclusioni e affermo solennemente che tutta questa faccenda l'avete vista in sogno ma certamente in sogno in sogno ripeteva il principe spaventato ma con che intelligenza hai sbrogliato tutto mio caro io ti sono grato di cuore per come mi hai condotto alla ragione io sono terribilmente lieto zio di avervi incontrato oggi immaginatevi senza di me potevate davvero confondervi e pensare di essere fidanzato e magari uscire di qua fidanzato per davvero immaginatevi il pericolo ma certamente il pericolo ricordate soltanto che quella fanciulla ha 23 anni non la vuole sposare nessuno e tutto un tratto arrivate voi ricco famoso e vi dichiarate suo fidanzato senz'altro avrebbero afferrato l'occasione vi avrebbero convinto di essere fidanzato per davvero e vi avrebbero fatto sposare anche con la forza e avrebbero potuto addirittura contare sul fatto che presto potreste anche morire possibile e per finire zio ricordate che un uomo con le vostre doti ma certamente con le mie doti con la vostra intelligenza con la vostra affabilità ma certamente con la mia intelligenza certamente e poi siete un principe immaginate che partito vi potreste trovare se davvero per un qualsiasi motivo vi dovreste sposare pensate solo a che cose direbbero i vostri parenti oh amico mio quelli mi manzerebbero addirittura ho già subito tante perfidie e cattivarie da parte loro figurati che sospetto che volessero richiudermi manicomio ma andiamo amico mio ti sembra ragionevole che cosa avrei potuto fare là in un manicomio naturalmente zio proprio per questo adesso non mi allontanerò più da voi quando scenderete ci sono ospiti da basso ospiti ah dio mio non preoccupatevi zio io sarò al vostro fianco ma come ti sono grato caro sei davvero il mio salvatore ma sai una cosa è meglio che me ne vada domani zio domani mattina alle 7 e oggi salutate tutti e dite loro che partite partirò senz'altro da padre misail ma amico mio come faranno per il matrimonio non temete zio io sarò al vostro fianco e comunque qualsiasi cosa vi dicono qualsiasi accenno vi facciano balenare voi dite chiaramente che quel matrimonio l'avete visto in sogno come del resto è effettivamente accaduto ma certamente certamente in sogno solo sai amico mio era davvero un sogno incantevole lei è meravigliosamente bella e sai da certe forme ma addio per ora zio io scendo e voi come mi lasci solo gridò il principe spaventato no zio soltanto scendiamo separatamente prima io e poi voi è meglio così e va bene allora e per l'appunto devo trascrivere un pensiero benissimo zio trascrivete il vostro pensiero e poi scendete non indugiate domani mattina poi domani mattina dal santo monaco assolutamente dal santo monaco charman charman ma sai amico mio è meravigliosamente bella certe forme e se dovessi per forza sposarmi allora dio ce ne scampi zio ma certamente dio ce ne scampi beh addio mio caro ora scriverò subito a propos è da molto che volevo chiedertelo hai letto le memorie di casanova le ho lette zio e allora ma certamente ma mi sono dimenticato di quello che volevo dirti ve ne ricorderete dopo zio arrivederci arrivederci amico mio arrivederci solo che era davvero un sogno incantevole un sogno incantevole